Musica Applausi Applausi Il centro di Nola che ho appena visitato, sono la campagna che lavora, che esporta, che assume, che non chiede solo assistenza e quindi mi spiace che poi l'immagine di Avellino nelle ultime settimane sulle televisioni nazionali sia passata attraverso i cori, un sindaco un po' strano, un po' di caos mentre è una città che ha un tessuto produttivo pazzesco e quindi sono contento che una delle prime uscite pubbliche mie sia proprio ad Avellino lo aspettavo da tempo e contiamo che alle parole di De Luca seguano i fatti col contributo della Lega A me interessa di più il programma, il progetto, il totocalcio lo lascio di là dove mettono insieme De Luca, De Mita, Mastella e compagnia noi ci occupiamo di rifiuti e anche in Irpinia c'è un grosso problema di valorizzazione e smaltimento dei rifiuti di sanità e qua fra i problemi del Moscati, l'ospedale di Solofra e le infrastrutture interrotte da tempo c'è tanto da fare quindi una volta concluso il progetto passiamo anche i nomi ma penso che sia questione di poco Ha incontrato Maresca? Ha incontrato Maresca? No, lo stimo e lo seguo a distanza La nuova sede di Avellino è anche una ripartenza per la Lega? Nei mesi passati c'è stato qualche problema anche con la giustizia? Non faccio il giudice ma la Lega è nata e io ho fatto il ministro dell'interno per combattere la camorra senza sé e senza mano e quindi certa gente è bene che stia lontana dalla Lega e dalle sedi della Lega, da certi personaggi li lasciamo volentieri agli altri partiti La buona amministrazione che la Lega applica in tante altre regioni e soprattutto sulle infrastrutture qua c'è il problema dell'alta velocità, della statale, della bretella ferroviaria, modello Genova Zero burocrazia, zero codice degli appalti, gru, cantieri, strade, autostrade, ferrovie perché le aziende erpine hanno bisogno di far viaggiare velocemente le loro merci quindi è un modello che funziona laddove governiamo da nord a sud Cosa ne pensa di questa alleanza della stazione marittima? Vediamo, vediamo L'Ispino è la terra di Temita, cosa vuole dire a Temita? Gli Irpini e i campani che ho incontrato anche oggi mi chiedono futuro, non passato diciamo che gente che fa politica da 50 anni con tutto il rispetto ha fatto il suo tempo Avellino e la campagna meritano di guardare avanti, non di guardare indietro La contestazione a Caldoro? La contestazione a Napoli è un po' anche Caldoro? Ma c'erano due persone ci sta, in democrazia due persone che non sono d'accordo vanno sempre bene Ha fatto il suo tempo anche Caldoro? Caldoro è una brava persona, a differenza di De Mita non è in giro da 50 anni a differenza di De Luca non ha fatto disastri Vedremo Grazie Senatore, quando riguarda la scuola lei oggi è stato molto molto duro nei confronti della storia Stiamo facendo una maratona alla Camera dei Deputati contro il decreto scuola che è una follia Anche solo pensare di chiudere i nostri bimbi in classe nel plexiglass è una roba da ricovero da TSO Mi domando che ministro hanno gli insegnanti e gli studenti Siamo l'unico paese europeo che ancora non sa se, come e quando riaprono le scuole È un ministro assolutamente non all'altezza prima se ne va a lavorare magari per un'industria che produce plexiglass meglio è Senatore, agli imprenditori spini cosa dice? Dai oggi agli imprenditori spini Ma vengo dagli imprenditori nolani meno burocrazia e meno tasse e soprattutto soldi veri in banca Ciao Ciao Soldi veri in banca perché al di là delle parole di Conte i soldi in banca non ci sono e anche qua a proposito di ministri che non sanno fare il loro mestiere se la soluzione del ministro dell'economia è testuale se non trovate i soldi in banca cambiate banca e quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona Va bene vengo a fare la spesa da te ragazzo dammi tempo A cantare, a fare promesse mirabolanti io è tutto giorno che incontro imprenditori in Napoli, a Nola, in Irpinia l'impegno è di tagliare un po' di burocrazia e un po' di tasse di chiacchiere De Luca e De Pia ne hanno fatte a sufficienza io penso che Avellino merita il futuro i De Mita e i De Luca ora che vadano in pensione perché hanno già fatto a campanza d'anni e poi la prossima volta prometto che torno ad Avellino e mi faccio due passi in piazza Kennedy perché dispacciatori e casinisti ce ne sono fin troppi da questa parte e non c'è bisogno di quel genere di immigrazione quando diciamo prima gli italiani diciamo che se c'è un posto di lavoro ad Avellino o se c'è una casa popolare ad Avellino o se c'è un posto in una scuola di Avellino quel posto di lavoro e quella casa popolare per la Lega vanno prima a un italiano e poi si avanza a un immigrato perché prima viene la nostra gente e poi viene il resto del mondo quindi sono contento di fare la mia riapertura proprio da qua perché è l'esempio che non chiede assistenza non chiede l'emosina ma chiede soltanto di poter lavorare e quindi vi ringrazio ci rivediamo da lunedì siamo in Parlamento a dar battaglia sui decreti perché qua i soldi in banca non ci sono la cassa integrazione non c'è ma in mutui gli affitti e le bollette non hanno sosta quindi porteremo la voce dei lavoratori e degli imprenditori irpini nei palazzi del Parlamento se ci ascoltano bene altrimenti ci faremo ascoltare in altra maniera in bocca al lupo viva Avellino buona vita e buona fortuna a tutti